Ciao, le barzellette narrano le peripezie esilaranti dei carabinieri, mostrando situazioni paradossali e giochi di parole divertenti. Sei pronta? Come si suicida un carabiniere? Si butta davanti ad un'auto in sosta ed aspetta che parta. Telex, da Ministero Interni, urgono notizie presunto sisma. Risposta. Identificato finalmente Sisma Giuseppe. Per quanto riguarda Epicentro, potrebbe trattarsi di Beppe, dove il centro, movimento tellurico, non ha provocato nessun danno. Non abbiamo potuto controllare la scala del signor Mercato. Per noi carabinieri, i gradi esatti sono gli stessi di prima. Io sono appuntato e mio collega carabiniere Semplice. Infine, ci scusiamo per non avere risposto prima, a causa che qui c'è stato un terremoto della Madonna. Due carabinieri in ferie stanno facendo un safari in Africa. Dopo aver ucciso un leone, lo stanno trascinando per la criniera. Dovete tirarlo per la coda? È meno faticoso. Suggerisce un ragazzo indigeno che li incontra per la strada. I due carabinieri ringraziano e seguono il consiglio. Mezz'ora dopo, uno dei due osserva. Certo, tirarlo da questa parte è molto più comodo. Però ci stiamo allontanando sempre di più dalla Jeep. Ahahahahha! 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 Grazie.